Fine un po' di anni fa i pasticcieri di Napoli facevano la nottata il 18 a cavallo del 19 marzo per produrre le zeppole di San Giuseppe. Adesso non si fa più perché si è industrializzato un po' tutto l'ambito della pasticceria. Mi chiesero di fare la nottata ed io ero anche contento. Si faceva la nottata per dare la zeppola fritta, cioè questa, guardate che spettacolo, fritta, fresca, così il 19 mattina tutti i festeggianti di San Giuseppe, anche per la festa del papà, avevano le zeppole di San Giuseppe fresche per il consumo del 19. Se volete realizzare la vera zeppola di San Giuseppe, napoletana, guardate questo video. Salve a tutti, benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi faremo la vera zeppola di San Giuseppe. Mi raccomando andate a guardare sempre le mie playlist create. Adesso compare in alto una scheda bianca che vi porta tutte le mie ricette. Ci sono gli accorgimenti per fare una buona zeppola fritta. Ovviamente sembrano banali, ma non lo sono come la qualità e la quantità di olio. In questo caso abbiamo usato lo strutto come la vera Napoli eseguiva e esegue ancora la zeppola di San Giuseppe. E abbiamo usato un sistema diverso da quello, diciamo, tradizionale, ossia quello di fare, governare l'impasto sulla carta, diciamo, da forno, per poi metterla direttamente in padella. Abbiamo scottato solo la parte di sotto per sollevare la pasta e la zeppola, ovviamente, per immergerla nell'olio e friggerla. Fare una crema pasticcera sostenuta e non molle al fine di non farla cadere, diciamo, dalla zeppola. Usare una buonissima marena. Queste sono le sacrosante raccomandazioni per una buonissima zeppola fritta. Andiamo a vedere questa bellissima ricetta. Allora, la ricetta per le zeppole di San Giuseppe fritte. Questa è una dose per circa 12-14 pezzi al massimo. Abbiamo per l'impasto 500 ml di acqua, 75 grammi di strutto, 10 grammi di sale, 400 grammi di farina 00 con proteine 10, 100 grammi di farina manitoba con proteine massimo 13 grammi. Uova 10 circa, 550 grammi più o meno. Per la crema abbiamo 500 grammi di latte, 250 grammi di zucchero semolato, 80 grammi di amido di riso o altri, potete usare anche farina o altri amidi, 30 grammi di burro, 70 grammi di tuorli d'uovo, circa 3 saranno, aromi a piacere, per la decorazione zucchero a velo, amarene schiacciate e sciroppate. A vostro piacimento. Per prima cosa prepariamo prima l'impasto, versiamo l'acqua nella pentola, poi aggiungiamo il sale e portiamo ovviamente a massima ebollizione. Prima di inserire la farina mettiamo anche 75 grammi di strutto, ecco andiamo a sciogliere lo strutto e aspettiamo che arriva al massimo dell'ebollizione. ecco iniziamo a spezzettare lo strutto per facilitare l'ebollizione. Ecco a questo punto l'ebollizione, piena ebollizione, inseriamo con attenzione tutta la farina, molto velocemente giriamo, la fiamma ancora accesa, giriamo energicamente in quanto molto duro l'impasto dovuta alla scarsa quantità di grasso all'interno, giriamo sempre, spegniamo a questo punto la fiamma e giriamo continuamente fino ad incorporare tutta la farina all'interno dell'impasto. Vedete, è molto sostenuto l'impasto, quindi bisogna avere un po' più energia per girare. Giriamo sempre, giriamo sempre, ovviamente tutto questo a fiamma è già spenta, giriamo continuamente, vi faccio vedere bene altrimenti, ecco, ottenuto un impasto ben amalgamato di farina e gli altri ingredienti, possiamo passare, vediamo che è un impasto abbastanza sostenuto, possiamo passare il tutto sul tavolo o in una planetaria, se avete una planetaria, io ho preferito farlo sul tavolo, ecco, li vado anche a salutare, mettiamo tutto l'impasto sul tavolo, l'impasto dopo 2-3 minuti lo andiamo a raffreddare con le mani, lo stendiamo alla meglio, allora questo è un impasto ancora tiepido, quindi va fatto a impasto tiepido, non completamente raffreddato, vado a girare un po' l'impasto in questo modo per agevolare ancora di più il raffreddamento e iniziamo a mettere le uova centralmente, ecco, vado a unire le prime due uova e vado a girare continuamente centralmente portandomi man mano tutto l'impasto laterale verso il centro, ovviamente unendo il tutto, vedete in questo modo, se avete una planetaria come vi dicevo potete farlo in planetaria, io ho preferito sul tavolo perché non vi nascondo che come si mescola, come si miscela la pasta bignè per la zeppola fritta sul tavolo non viene in planetaria visto la poca quantità, se era di più allora mettiamo in planetaria e andiamo a unire sempre le due uova che abbiamo inserito, le prime due uova a un certo punto che l'impasto risulta asciutto dalle prime due uova iniziamo a togliere tutto l'impasto laterale possiamo inserire anche le altre due uova sempre centralmente ho le mani un po' di guanti in questo caso altre due uova essendo dieci uova quindi ripetiamo questa operazione per ben cinque volte non possiamo metterne di più altrimenti rischiamo di fare grumi e di far cadere subito l'impasto e non viene una zeppola ben sviluppata come è venuta a noi nel video ecco l'impasto sempre sostenuto faccio l'operazione e per la terza volta vado a unire le ultime volte delle seconde due uova sarebbero le quattro uova vado a pulire sempre un po' le mani e metto le altre due uova ripetiamo così e così via mescoliamo sempre per bene e vado a mettere le altre due uova che sono otto vedete l'impasto già inizia a essere più cremoso risulterà comunque un impasto ben sostenuto perché è un impasto che dovrà essere fritto quindi non deve essere molliccio altrimenti abbiamo sbagliato il tutto vedete ancora ben sostenuto mettiamo le ultime due uova le finali due uova io controllo sempre l'andamento altrimenti mi fermo invece vanno bene più o meno siamo sui 550 grammi di uova se ne mettete di più viene una zeppola che si affloscerà di più durante il raffreddamento e si aprirà molto di più nella cottura nella frittura rimanendo una zeppola con una forma ancora più anomala di come abbiamo ottenuto noi che già la zeppola fritta risulta di una forma non molto omogenea giustamente essendo fritta ecco queste sono le ultime due uova andiamo a amalgamare il tutto abbiamo finito vado a prendere un recipiente per mettere tutto il composto all'interno vedete è un impasto cremoso liscio però abbastanza sostenuto e così deve essere guardate che spettacolo così deve essere perché la struttura deve avere un corpo abbastanza energetico come infatti abbiamo unito anche la faina manitoba e una 00 di almeno 10 grammi quindi abbiamo fatto una miscelazione di farine vedete che spettacolo vado a mettere il tutto in questo recipiente in modo tale che dopo lo preleveremo da questo recipiente ecco qua ho lasciato anche il cassetto di tutto di me aperto il bello della diretta ecco qua e adesso ovviamente vado a pulire il tavolo da tutte i pezzi di impasto che sono rimasti e vado a preparare un beccuccio una bocchetta riccia di almeno 14 una teglia con carta da forno vedete l'impasto come vi faccio vedere come è sostenuto così deve essere non vi impressionate mi raccomando fate la bocchetta non troppo larga altrimenti fuoriesce il beccuccio dal sac à poche perché in quanto molto duro l'impasto e vado a fare un primo giro sotto vedete e poi vado a fare un secondo strato un po' più sottile non vado a premere molto il sac à poche sopra per avere un po' di altezza vedete alla fine abbiamo una circonferenza più o meno totale della zeppola di un 6 5 6 centimetri massimo 8 centimetri comunque regolatevi che in una teglia come la mia questa qua classica da forno ce ne vanno 9 io vado a fare prima 2 e vado a fare la prova vedete come risulteranno e le andiamo ad infornare in un forno a 200 gradi e le mettiamo in fondo in basso al forno per farle scottare solo sotto ma giusto il tempo che staccare dalla teglia da forno andiamo a muore la teglia da forno per vedere se si staccano già sono pronte per essere fritte nel frattempo vedete ho il restante strutto comprato in questo caso ho comprato un chilo di strutto il restante strutto che ho messo all'interno dell'impasto vado a mettere sul fuoco e faccio sciogliere lo strutto io ho usato strutto però potete usare anche olio però vi dico che lo strutto oltre a dare un sapone particolare dà anche una struttura alla zeppola in quanto un ottimo conduttore di calore stabilizzato quindi abbiamo una zeppola che lievita abbastanza uniformemente ecco quando è pronto l'olio vado a testare con un pezzettino di impasto vedete e vedo che già l'olio ha dato il suo risponso ecco qua vedete come devono essere le zeppole crude solo sotto che si staccheranno dalla dalla carta da forno e vado a inserire sotto sopra la zeppola nell'olio in una temperatura più o meno di 160 gradi poi dopo andrò a alzare la fiamma in fase finale per far aprire la zeppola diamo una temperatura intorno ai 160-165 gradi vedete non è che subito si va a colorare la zeppola questo è un risultato dovuto anche alla buona miscelazione dell'impasto con le uova non è stressato se lo fate in planetaria può succedere che l'impasto si va a colorare in anticipo quando lo si fa a mano rimane così chiaro vedete e vado a girare in continuazione dando anche ogni tanto una spinta al fondo guardate che spettacolo io ho usato due cucchiaini lunghi di ferro voi potete usare ovviamente qualsiasi attrezzo a vostro piacimento vedete come sale l'impasto e vado a girare ogni tanto di tanto in tanto io ho fatto questa prova delle prime due perché siccome a casa non si fanno quasi mai o mai le zeppole fritte scusate allora ho voluto vedere prima un po' anche la grandezza e la grandezza è l'ideale più o meno da questo impasto ne ricaveremo 12-14 zeppole più o meno è venuta una teglia da 9 più altre 4-5 da parte e vado a usare anche la friggiarella come diciamo a Napoli a vota pesce per mettere ogni tanto la zeppola a fondo voi ovviamente se usate una padella più grande e mettete più olio ovviamente potete friggere a due e anche a tre pezzi alla volta io ne ho usata solo questa quantità perché ne ho fatte di meno il resto dell'impasto l'ho buttato via perché non mi serviva in quanto già siamo pieni di dolci basta mangiare e ogni tanto vado vedete questa frittura ogni tanto va spinta in basso e ogni frittura può durare circa una decina di minuti purtroppo per fare una cosa sistemata una zeppola sistemata vedete ogni tanto vado a spingere a fondo per far asciugare se le tirate prima rischiate di farle affrosciare durante il raffreddamento e fate un lavoro inutile in quanto per 5 minuti non avrete un prodotto ottimale andiamo a bussare sopra se suonano le zeppole fanno un tonfo di prodotto duro quindi è asciutta è pronta guardate che spettacolo la nostra zeppola e voilà è pronta la nostra prima zeppola così posso continuare e quindi vado a prendere l'altra zeppola che amo già fatto scottare sotto nel forno e così via guardate che spettacolo otterrete una zeppola di questa dimensione di questa manifattura vi assicuro buonissima vedete è continuo in questo modo adesso già l'olio come vedete ha preso una temperatura un po' superiore quindi tende a arrossare prima la zeppola quindi io vado a abbassare totalmente la fiamma affinché la zeppola si va a aprire meglio se diamo una padella troppo forte un olio troppo di alto di temperatura rischiamo di non far aprire la zeppola e di farla rimanere compatta più chiusa che poi dopo quando si va a aprire si va a rompere anche ecco in questo modo ecco vedete a questo punto la zeppola ben sviluppata vado ad asciugare solo immergendola di tanto in tanto sul fondo e girandola anche di tanto in tanto e anche questa zeppola guardate che spettacolo anche questa zeppola è pronta e così via vado a continuare per tutte le zeppole che sono venute fuori da questa ricetta e vado a continuare così prima il pezzo di sotto poi quello di sopra ecco qua in questo modo altre nuove e vado a continuare la frittura come abbiamo fatto per le precedenti guardate che spettacolo è un po' sacrificato come lavoro però vi assicuro che sono di una bontà unica e andiamo a fare un ripasso per le crema pasticcera come già avete visto in altri miei video vado a unire zucchero e amido uso questo sistema perché poi comunque alla fine andiamo a inserire il mini pimer per raffinare il tutto vedete dopo inserito zucchero e amido vado a unire tutto il latte togliendo grossomanamente senza problemi tutta la farina e zucchero anche se ci sono gumi non è un problema come vi dicevo vedete in questo modo vado già ad accendere a fiamma bassissima inserisco i tuorli vado a schiacciare un po' tanto vado a mettere a immergere il mini pimer ecco e vado a frullare il tutto tranquillamente ecco in questo modo e poi dopo passo a cottura oramai tolto tutti i grumi che non è che ce ne siano parecchi già quando mescolate bene zucchero e amido non si vanno a formare perché lo zucchero da una mano all'amido a non formare grumi e poi adesso passiamo in cottura tranquillamente a fiamma bassissima inizio vado a mettere infine il burro a fiamma bassissima di tanto in tanto vado a girare fino a completa cottura vedete man mano inizia a cuocersi la crema e vado a girare continuamente a questo punto gli aromi li metteremo a freddo voi se avete una bacca di vaniglia o preferite fare con la buccia di arancia e limone intera io non uso questo sistema lo potete fare benissimamente il mio benissimamente è sacro lo sapete ci vuole sempre vedete questa formazione di grumi è normale perché è in cottura su una parte di crema che è cotta e una parte no quindi ovviamente sembra che la crema sia piena di grumi invece non è così è cruda ancora una parte ecco già sediamo una bella battuta con la cucciarella come diciamo a Napoli con il cucciarello di regno vedete che man mano poi i grumi vedete sono scomparsi fino a quando inseriamo completamente anche la frusta e finiamo di togliere tutti i grumi di cottura attenzione non grumi di lavorazione vedete che spettacolo la nostra crema pasticcera è quasi pronta e adesso vado a mettere vado a pulire il cucciarello di regno e vado a dare una bella frustata come si sol dire per farla raffinare ancora di più la crema vedete che bello e vado a spegnere anche sotto la fiamma e mettiamo in un recipiente a raffreddare un recipiente d'acciaio usato in questo caso ecco vedete e di tanto in tanto vado a girare fino a totale raffreddamento in questo momento vado a inserire un pizzico di sale e gli aromi io ho usato aroma vaniglia liquida ecco vedete in questo momento si riscola un pizzico di sale e vado a girare dopo ho messo aromi e sale il sale si mette in fase di raffreddamento e anche gli aromi altrimenti evaporano e a raffreddamento completato dopo almeno 3-4 ore di raffreddamento completo metto le mie spettacolari zeppole vedete che belle le mie zeppole nel vassoio in questo caso ne ho guarnite soltanto 6 perché altre non me ne servivano voi se non vi servono le potete benissimamente cuocere magari le potete congelare o mettere in frigorifero e poi man mano quando vi servono le guarnite in frigorifero massimo 2-3 giorni altrimenti le congelate che quando in fase di scongelamento si mantengono molto molto bene ecco a crema raffreddata vedete prendo un sac a poche con la stessa dimensione del becco messo per le zeppole andiamo a fare una bella rosa vedete lo stesso becco o punta a stella delle zeppole vado a fare una bella rosa sopra a Napoli la chiamiamo la rosa di crema andiamo a fare questo giro di crema in modo tale da centralmente andiamo a completare con la marena in questo caso ho usato sia marena schiacciata sia marena sciroppata che hanno due gusti spettacolari entrambi io a me piace tutto quindi per me è tutto spettacolare purtroppo ecco queste sono quelle a sciroppate quella di prima erano quelle schiacciate adesso vi faccio vedere tutte e due guarnizioni ecco questa è quella schiacciata vado a fare metà e metà e queste sono quelle sciroppate ne vado a mettere due e e voilà le nostre spettacolari zippole sono pronte a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci siamo. Guardate che spettacolo di zeppola. Andiamo ad assaggiare. Prendiamo crema, amarena e impasto. Questa è anche arte sapere assaggiare. No, guardate qua. Mmm... Non è mai un risultato del genere perché vi viene una zeppola non sviluppata come deve essere, come questa. Guardate anche la sua morbidezza. Guardate. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e seguitemi sempre sui social, Facebook e Instagram. Lasciate un commento qui sotto che vi risponderò a tutti, come sempre. Ciao a tutti, alla prossima ricetta.